Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori tegami. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Barazzoni Granitica. Procedendo la nostra top 5 delle padelle più efficaci commercializzato online, troviamo un altro design perfettamente antiaderente, che paga solo un prezzo un po' costoso rispetto ad altri prodotti con caratteristiche simili. Ciò nonostante, rimane una scelta eccellente, di certa qualità, in particolare se si ha la possibilità di capitalizzare su un'offerta speciale. Questo piatto a basso coperto con una dimensione di 24 cm permette di scoprire il godimento e anche il gusto del cibo preparato sulla roccia. Al numero 4, abbiamo Silex Italia. Sotto la piattaforma troviamo questa padella che è specificamente interessante a causa del prezzo basso tuttavia con un design attraente, anche se molto poco. La grande forma e anche i lati alti consentono di deliziare da soli in cucina. Utilizzando questo piatto coperto per lavori di preparazione molto vari, dalla cottura del risotto con rapida dissipazione, alla frittura in abbondante olio non c'è assenza di stimoli per l'immaginazione creativa. Al terzo posto, abbiamo la Ballarini Cortina. In terza posizione nella nostra posizione troviamo una delle pentole di maggior successo di quest'anno, estremamente apprezzata specificamente per la sua incredibile resistenza all'usura. Il suo rivestimento antiaderere, in realtà, è composto da tre strati, due dei quali sono basati su bit minerali. Di conseguenza sarà eccezionalmente difficile danneggiare con una forchetta, estremamente immune nella lavatrice del piatto e certamente non sarà danneggiato anche dopo un uso molto intenso. Al numero 2, abbiamo il Le Creuse. Capacità di 4 litri e anche materiali di eccezionale artigianalità sono le caratteristiche principali che ci hanno motivato a includere la padella Le Creuse a 8.130 tra i nostri puntatori di acquisto, indipendentemente dal costo più alto rispetto allo standard. La particolare forma ovale e il diametro di 30 cm lo rendono eccellente per preparare un'enorme quantità di cibo e anche per offrire le esigenze di una grande famiglia pasta, verdure, stufati di carne, suppe. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo i lagnelli Tegame. Questo modello agnelli è, a nostro avviso, la migliore padella in alluminio dell'anno. Questo tipo di vaso, anche se non come antiadergio come le versioni in pietra, ha varie altre punte di freccia affascinanti nel suo arco. Sono molto leggeri, ad esempio, e di conseguenza facili da prendere in cura durante tutte le fasi di preparazione di una ricetta. Il comodo in acciaio inossidabile si occupa di questa padella. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.